andiamo a mangiare a questo ristorante oggi a tutti la vento e spiaggia non siamo ancora andati questo è l'ingresso al ristorante che è anche molto carino dove abbiamo mangiato o stiamo mangiando Elena oggi ha preso questo tipo di pasta che è ripiena non abbiamo capito bene di cosa adesso si accinge andare a tagliare uno di questi due specie di cannelloni fatti tipo crepe ci deve essere dentro del pollo e delle verdure a quanto ho capito pollo, peperoni e basta se mai hai capito che c'è andato qualcos'altro adesso magari mangiando vedremo dunque sembra interessante, gustoso vedersi sì, è d'accordo signora? speriamo, chiudiamo invece mi sono preso, guarda che porzione esagerata sembra mi sono preso la carne di capra con un po' di verdura cotta il ristorante è molto carino essendo un orario abbastanza presto sarà a luna c'è pochissima gente oggi arriveranno perché a luna qua in Grecia è riladissimo mangiare ma siccome c'è questo vento qua in spiaggia oggi ne siamo andati, siamo stati a farci il nostro giro a sud dell'isola e avevamo fame e siamo risalzati un po' presto e abbiamo deciso di mangiare presto anche come se fossimo in Italia a luna così presto ebbene sì e lì c'è la baia di Kalamizza